buongiorno ragazzi eccoci una nuova avventura oggi ci troviamo a Ponte Cagliano situazione da pesca a fondo e no da surf casting anche se la giornata non è delle migliori però noi ci proviamo ragazzi montatura di oggi mini trave e piombo EF Evo di Apache Fishing che porta il mio nome ragazzi le EF sta per Esposito Ferdinando che troverete nelle grammature da 100, 125 e 150 sul sito ragazzi oggi esca rossa e proviamo sulla corta distanza ragazzi perché abbiamo le reti davanti quindi è inutile sparare lontano e travarci in una situazione di infaglio quindi molto corto la distanza che andremo a passare il mischio è fatto facile e veloce e lanciamo a propos a presto a presto a presto Grazie a tutti. 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 Siamo quasi giunti al termine, non ne vale la pena continuare, purtroppo siamo circondati da queste reti. L'importante è che abbiamo scappottato. Ci siamo riusciti fortunatamente, quindi va bene così. Brutta, 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 brutta giornata. Ho perso queste due o tre ore che dovevo consumare anche l'esca che c'aveva, l'avevo acquistata e la dovevo consumare. Nel sotto arriva qualcosina è uscita, una bella mormora, bella veramente, ho deciso di trattenerla perché è stata nel campeggio, adesso me la pappo, me la mangio ragazzi. Questa qua veramente, questa qua veramente, sono felice di trattenerla per mangiarla al momento, fresca. Lo sapete, io questi pesci di solito li libero tutti, ma questa la voglio tenere per mangiarla io oggi che difficilmente mangio il pesce. Va bene, dai, nonostante le reti abbiamo scappottato, va bene così, non ci lamentiamo, anche se oggi avrei preferito pescare una bella orata, quelle là che mi piacciono a me, in questo posto, ma va bene così ragazzi. E non rimane che dite se vi è piaciuto il video, lasciate il like, iscrivetevi al canale Surfcasting del Golfo, al prossimo video, ciao ragazzi. Grazie a tutti.